Qual è il significato simbolico della pandemia e come può essere letta da un punto di vista spirituale la serie di avvenimenti che oramai da due anni a questa parte sembrano aver inaugurato una nuova epoca, un'epoca fatta di catastrofi, di calamità e di problemi che riguardano strettamente le sorti dell'intera umanità. Per rispondere a questi quesiti abbiamo intervistato Kempo Gelek Jinta che è l'abate del più importante monastero di tradizione pre-buddista, quindi tradizione Bön in occidente, in Europa in particolare, e grazie alla testimonianza di Kempo Gelek Jinta abbiamo quindi la possibilità di vedere come un'antichissima tradizione spirituale interpreta e legge i fenomeni attuali, i fenomeni che stiamo vivendo e che stiamo, potremmo dire, patendo ogni giorno. Grazie a questa intervista che abbiamo tradotto in italiano per i nostri ascoltatori, Kempo Gelek ci permette di capire non solo il significato globale di questi avvenimenti, ma anche ci spiega come è possibile a livello individuale proteggersi, difendersi, ovviamente attraverso un'ottica e un'azione che si muovono soprattutto su un piano spirituale, ma anche cercherà di rispondere Kempo Gelek al modo in cui possiamo inquadrare questi avvenimenti, che sono oramai un vero concatenarsi di avvenimenti, che non lasciano più spazio a nessun momento di pausa, come possono essere letti in una visione temporale. Questo significa com'è che possiamo leggere questi eventi in relazione a quella che normalmente nel pensiero orientale viene chiamata l'epoca finale, l'epoca del Kali Yuga. Siamo veramente alla fine dei tempi o c'è qualcosa che ci può salvare? Kempo La, qual è il punto di vista della tradizione Bompu rispetto al momento attuale che stiamo vivendo e qual è il significato, secondo questa tradizione, di questa stessa malattia? Normalmente nella tradizione Bompu, nella religione Bompu noi crediamo al karma. Ora, il karma non è qualcosa che qualcuno vi consegna, vi dà, è qualcosa di personale che creiamo noi stessi. Il karma è qualcosa che noi stessi generiamo e creiamo. Possiamo dire che il karma è il seme delle nostre azioni, quindi quelle che possiamo compiere attraverso la mente, la parola e il corpo. Secondo gli insegnamenti della tradizione Bompu e gli insegnamenti del Buddha Tompa Sherab, che è il Buddha fondatore della nostra religione, viene detto che gli esseri umani hanno la capacità al proprio interno di creare del karma negativo accumulando delle azioni negative. Questo accumulo di azioni negative aumenta col trascorrere del tempo e in ultima analisi succede che progressivamente le azioni negative e i risultati delle azioni negative prevalgono sulle azioni positive e sui risultati stessi delle azioni positive. Ora, questo su una lunga durata ovviamente ha dei riflessi e delle conseguenze anche a livello esterno, esteriore, nel mondo fuori di noi. E questo può essere la causa anche di disordini e disastri a livello naturale connessi con il fuoco, con l'acqua, con le tempeste, i venti. Questo in altri casi può avere come conseguenze ovviamente anche delle malattie o dei virus, ovvero quello che noi in tibetano chiamiamo Yannè. In questo senso possiamo dire che quello che accade all'esterno è quindi influenzato direttamente dal nostro modo di agire come persone, come individui. Sotto questo stesso riguardo noi assistiamo come gli esseri umani siano spesso animati da una forte avidità. Questo comporta come effetto questa volontà decisa di sfruttare al massimo tutte le risorse naturali. Questo sfruttamento esasperato delle risorse naturali ovviamente genera dei mutamenti e degli squilibri a livello ambientale. Quindi questo sfruttamento, come ad esempio l'abbattimento sconsiderato di foreste, beh, nella nostra tradizione viene detto che questo per forza comporta delle conseguenze negative. E tra queste stesse conseguenze troviamo anche la possibilità di manifestarsi appunto di malattie. Quindi malattie, ma non solo malattie, anche altri generi di sofferenze che possono colpire gli esseri umani. Quello che stiamo dicendo vale soprattutto nella relazione tra gli esseri umani e il mondo esterno. Però è anche vero che ci sono degli elementi che riguardano la sfera interna, interiore della persona. A livello interno quindi questo accumularsi e questo aumento di azioni negative può influenzare la lunghezza della vita e anche la stessa prosperità delle persone. In questo senso possiamo dunque dire che esiste una stretta correlazione tra le azioni degli individui e quello che accade esternamente. Ma è anche vero che questa è un'epoca molto particolare, quindi a livello universale e cosmico è un momento particolare. in sanscrito si parla spesso dell'epoca del Kali Yuga. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista della tradizione, questa non è ancora tuttavia l'epoca finale. Il peggio deve ancora arrivare. Nei testi e negli insegnamenti di cosmologia della tradizione bompo si dice ad esempio che nelle epoche ultime il sole, in particolare il sole, aumenterà enormemente le sue capacità e il suo calore. Ad esempio, sempre a questo riguardo, si dice che nel Kali Yuga, quindi in questa epoca finale, il sole avrà la potenza di sette soli contemporaneamente. Quindi immaginate un sole che avrà la potenza di sette soli contemporaneamente. E questo è qualcosa che in maniera graduale noi possiamo già percepire. Se voi guardate ad esempio come le stati stia aumentando la temperatura, ebbene questi sono davvero dei segni che si riferiscono esattamente a questo genere di circostanza. A questo stesso riguardo, le malattie possono essere collocate in questo analogo contesto e si dice quindi di malattie che appariranno e scompariranno. Quello che ovviamente sta accadendo è connesso a ciò che nella nostra tradizione normalmente definiamo come impermanenza. Tutti i fenomeni sono impermanenti, questo significa che ad ogni istante tutto cambia, nulla rimane stabile. Questa nozione di impermanenza che quindi è un pilastro importante nella nostra filosofia, poi può manifestarsi in maniera concreta anche negli eventi che noi viviamo. È per questo motivo che nella nostra tradizione parliamo di quattro cause ben distinte che possono generare problemi e distruzioni e che sono le armi, questo significa dunque le guerre, ma abbiamo poi le carestie, le malattie e infine i disastri naturali, quindi in generale parliamo di queste quattro cause, queste quattro elementi che possono creare distruzione all'interno del pianeta, all'interno della nostra dimensione di esistenza a livello collettivo. Riguardo poi all'ultimo elemento che sono i disastri naturali, ovviamente questi possono riguardare la presenza del fuoco, la presenza dell'acqua, la presenza del vento, quindi gli elementi naturali che agiscono in maniera disequilibrata creando distruzione. Questo significa che se è vero che l'impermanenza è la legge fondamentale che regola i fenomeni, in circostanze particolari vediamo come questa impermanenza mostra il suo carattere distruttivo, nel senso che determinate fenomeni naturali o situazioni possono crearsi e generare veramente distruzione. che è un po' là, dal tuo punto di vista e dal punto di vista della tradizione che rappresenti, qual è la miglior attitudine interiore e psicologica che una persona può adottare per far fronte alla situazione che stiamo vivendo in questo momento? A questo riguardo la cosa più importante che noi possiamo fare come esseri umani è renderci conto e maturare la consapevolezza che quello che sta accadendo è intimamente connesso con le nostre azioni, con le azioni che abbiamo sviluppato. Detto questo, c'è poi da considerare come il miglior modo per reagire a quello che sta accadendo è quello di cercare di rimanere il più rilassati possibile. So benissimo che si tratta di qualcosa di difficile in questo momento, ma davvero la cosa migliore è cercare di rimanere il più rilassati possibile, è inoltre importante cercare di non aver paura, non essere stressati, cercare di non panicare. Tutto questo ovviamente non è facile sia a livello mentale che a livello fisico, ma essendo anche vero che non possiamo realmente fare più di tanto, che siamo quindi inerti, l'unica cosa che può veramente aiutarci è quella di cercare di mantenere il più possibile una dimensione di calma interiore. Al tempo stesso è importante cercare di pregare e di condividere con gli altri ciò che abbiamo di buono, ciò che di buono possiamo condividere con tutti gli altri. Sempre a questo riguardo è fondamentale cercare di rimanere con la mente aperta. Voi potete aiutare direttamente le persone che vi circondano, gli altri. Se non abbiamo modo di aiutare direttamente gli altri è importante cercare di mantenere una mente con un'attitudine fondamentalmente positiva. L'energia positiva generata dalla nostra attitudine positiva ha realmente il potere di cambiare l'ambiente che ci circonda. Se per di più voi siete persone che credono è importante quindi pregare. Se siete persone non credenti allora cercate veramente di mantenere questa attitudine positiva fondamentalmente a livello interiore. E tutto questo ovviamente a livello mentale, a livello verbale e a livello delle nostre azioni. Questo davvero, tutto questo ha davvero il potere di cambiare la polarità dell'energia all'interno del mondo. Campo Gelek, dal momento che stai parlando dal punto di vista anche spirituale dell'attitudine da tenere. Ecco, qual è il consiglio che tu e la tradizione che rappresenti possono dare alle persone come agire spiritualmente e quali sono le azioni spirituali da intraprendere a livello individuale in questo particolare momento? Allora, per quello che riguarda il punto di vista spirituale, delle persone quindi sono decredenti, ovviamente ci sono tante tradizioni differenti e tante modalità diverse secondo le varie tradizioni di appartenenza. Quello che abbiamo detto in generale è importante mantenere questa attitudine positiva della mente, questa motivazione positiva all'interno di noi. Per quello che riguarda poi la tradizione Bön, qui abbiamo varie pratiche come quelle ad esempio del Buddha della medicina, vi sono pratiche come quelle della recitazione dei mantra di guarigione o di preghiere di guarigione, vi sono poi dei mantra specifici come diciamo noi per liberare gli ostacoli. a questo specifico riguardo, ad esempio abbiamo il mantra Akarame, tutti sono appocici malmal, Akarame tutti sono appocici malmal, soha, sempre in questo contesto, poi sono fondamentali le pratiche come le pratiche per i protettori, quindi che si indirizzano a quelli che noi chiamiamo i protettori e in particolare a Yeshevualmo, Yeshevualmo che è quindi questa divinità, questo Buddha illuminato femminile che è particolarmente connesso con la terapia e la guarigione. Questo genere di pratiche, questo genere di mantra hanno il potere reale di aiutare le persone e l'efficacia stessa di questi mantra legata al fatto che la persona che le recita si senta realmente sostenuto, si senta realmente protetto dalle divinità o dall'entità a cui si sta indirizzando. Questo genere di pratiche hanno ovviamente degli effetti non solo sull'aspetto fisico e materiale della persona, ma anche sulla compagine interiore della persona. Queste pratiche permettono veramente di farci sentire che siamo protetti, ci fanno autenticamente sentire che qualcuno si sta prendendo cura di noi e per tutte queste ragioni che noi abbiamo numerose pratiche che si riferiscono proprio a questa circostanza ed è anche importante non solo la pratica ma il dedicare i benefici della pratica stessa, quindi le preghiere stesse proprio per aiutare tutti gli esseri senzienti, tutti gli esseri viventi, in particolar modo quelli che in questo momento stanno soffrendo. Kempo Gelek là, sempre a questo riguardo, volevamo domandarti, pensi che esistano soprattutto in questo momento dei luoghi più propizi per la pratica, dei luoghi dove la pratica stessa può avere più efficacia piuttosto che altre località geografiche? Credo veramente che in questo momento ogni luogo sia autenticamente propizio per la pratica, questo nel senso che abbiamo l'occasione in maniera diretta e tangibile di sperimentare cosa significhi la legge dell'impermanenza, cosa significhi il karma, come funzioni sia la legge dell'impermanenza sia il karma. Veramente ora in maniera diretta possiamo cogliere cosa significhi la natura dell'impermanenza dei fenomeni, questa è una grande occasione. Praticare non significa riterarsi in dei luoghi ameni, lontani da tutto e da tutti, dove sia possibile appunto meditare in pace e in tranquillità, non è questo. Praticare significa applicarsi in maniera tale da purificare le impurità della nostra mente, come liberare anche le azioni impure. Il momento che stiamo vivendo è davvero importante per riflettere alla pratica, sulla pratica. È un momento molto propizio per integrare la pratica stessa. È un'occasione propizia per liberarci dal dubbio, dalle paure, questo, penso, è ciò che davvero può aiutarci in questo momento, praticare rimanendo qui e con questa attitudine. Campo là, questa è l'ultima domanda che volevamo farti, molto semplice, se tu potessi riassumere in una sola frase, qual è il consiglio che tu vorresti dare a tutte le persone, a tutti gli esseri umani in questo momento particolare. Penso veramente che questa è una grande occasione per avere una percezione diretta dell'impermanenza dei fenomeni. E come in questo caso, a livello generale, questa stessa impermanenza è connessa alla presenza di malattie, disastri. Quando queste cose accadono, poco importa se noi siamo credenti o non credenti, le cose accadono comunque nella maniera con cui le stiamo vivendo e percependo. Ovviamente tutto ciò che sta succedendo non è per sempre. L'impermanenza ci insegna che una cosa non esiste per sempre, quindi in questo momento c'è, poi scomparirà. Per quanto riguarda questo momento, penso davvero che sia importante cercare di non speculare troppo. Non domandarsi troppo, non avere troppe aspettative, non parlare, non ragionare troppo, perché in realtà nessuno di noi ha le capacità reali di sapere cosa accadrà. Tutto ciò che noi possiamo ascoltare, tutto ciò che ogni persona può dire, molto probabilmente c'è una parte di verità, ma c'è un'altra parte che invece riguarda delle ipotesi. Più noi speculiamo, più c'è il rischio che diamo adito a ulteriori dubbi. Ovviamente questo è naturale, agire in questo modo, anche perché la situazione è molto difficile, è piena di dolore, ci sono molti malati, ci sono molti morti. Noi siamo quindi preoccupati per noi, per la nostra famiglia, per la nostra nazione, per i nostri amici. So benissimo che è difficile, ma tuttavia non è impossibile cercare di mantenere un animo sereno, una mente calma, rimanere rilassati senza divenire, senza diventare preda della agitazione, della paura o della preoccupazione. Questo è davvero importante, cercare di rimanere rilassati sia con il corpo, con la mente, la dimensione energetica anteriore e assieme a questo cercare di coltivare costantemente un'attitudine positiva. Questo sì, penso davvero sia importante, cercare di non essere troppo spaventati, troppo stressati, non cadere in preda al panico, cercando quindi al tempo stesso di rimanere con un'attitudine positiva e con una mente serena, senza tuttavia farsi troppe domande o interrogarsi troppo su ciò che accadrà domani.